Una serata per discutere sul senso dello sport come mezzo per l'educazione di giovani e ragazzi ieri sera a Gandino. L'incontro è stato organizzato dal vicariato della Val Gandino in occasione della settimana dedicata a San Giovanni Bosco. In oratorio si sono confrontati il vescovo Francesco Beschi, il direttore dell'ECO di Bergamo Ettore Ongis, l'ex calciatore ora allenatore delle giovanili dell'Atalanta Eugenio Perico, la pedagogista Lucia Castelli, la campionessa di atletica Daniela Vassalli e Alessio Franchini, ideatore del sito educalcio.it. Moderatore della serata è stato Gian Battista Gherardi. Un ampio servizio con le interviste e i protagonisti andrà in onda domani sera nel nostro settimanale, il venerdì. Sentiamo ora una parte di quelle realizzate con Monsignor Beschi ed Eugenio Perico. Che valore può avere lo sport per la crescita di una persona? Ma certamente ha più valori, un valore immediato che riguarda il corpo, che riguarda la salute. Non è una cosa da poco, nel senso che oggi il tipo di vita che facciamo ci porta a volte a una serie di problemi che derivano appunto dal non muoverci e dal non fare esercizio fisico e alla fine di non fare sport. E quindi è un valore la cura della salute e quindi lo sport certamente dà un apporto molto rilevante in questo senso. E poi lo sport secondo me ha il grande valore della disciplina, di una disciplina che prende corpo, anima, mente, sentimenti. E' coinvolgente sotto tutti questi aspetti e io ritengo che praticato non così in maniera periferica, non parlo del professionismo, ma in maniera seria dia delle grandi possibilità alla persona per la sua maturazione, sia nel corpo sia nello spirito. Ma non solo queste due cose separate, queste due cose insieme. Credo che molte persone che hanno fatto e fanno sport possono testimoniare di questo. Ci sono poi gli sport di squadra, a questo si aggiunge allora il valore della squadra, quindi del lavorare, del giocare insieme, del tenere in considerazione l'altro. Poi c'è lo sport agonistico e quindi il valore del confronto con l'altro che non viene percepito come nemico, ma come avversario col quale misurarsi e anche da battere, però secondo quelle regole che sono proprio dello sport che si sta praticando. Quindi veramente senza accorgerci, noi nel praticare sport viviamo tutta una serie di valori ai quali anche è giusto ogni tanto dare un nome. Eugenio Perico, ex calciatore dell'Atalante, ora allenatore nel settore giovanile nerazzurro. Lo sport può diventare occasione per la crescita educativa di una persona? Sicuramente, specialmente se attuato con lo spirito giusto, vale a dire dove i ragazzi imparano a scommettere su se stessi e soprattutto apprendano per tempo che il risultato che deriva dal loro partecipare a un avvenimento sportivo, o un'attività sportiva meglio ancora, è direttamente proporzionale all'impegno che hanno profuso per ottenere quel risultato. Oggi poche realtà presentano questa visione della vita che è invece la visione fondamentale. Niente viene gratis e più uno è capace di impegnarsi in una cosa, maggiore sarà il risultato che ne otterrà. E anche la soddisfazione o la derusione. L'importante è però buttarsi dentro con tutto se stessi.